Ok, quindi, l'altro giorno il mio capo mi diceva che l'animatronic coniglio si comporta in modo piuttosto strano ultimamente. Ha sottolineato in particolare che il voice box non funziona tanto bene e a volte le parole si interrompono e si ripetono, e in rari casi dice frasi non adatte ai bambini, il che è alquanto strano. Ah sì, giusto. Ha anche detto che questa cosa deve essere risolta il prima possibile, visto che ha avuto un forte impatto sulle relazioni con i clienti e li ha costretti ad allontanarsi dal ristorante. Va bene, quindi direi che il modo migliore per iniziare è quello di eseguire alcuni semplici test vocali per cercare di individuare esattamente cosa sta causando questo problema. Ok, iniziamo il test vocale adesso. Ehi, ciao a tutti! Io sono Bonnie il coniglio e benvenuti al Freddy Fazbear Pizza! Ok, interessante. Si sentono abbastanza glitch, ma comunque non è niente di così drastico. Ok, proviamo un'altra volta. Ehi amici, state passando una bella giornata? Perché di sicuro anch'io non la sto passando! Ok, ok, sembra che i problemi stiano peggiorando. E da quello che posso dire, secondo me potrebbe essere un qualche tipo di malfunzionamento causato da un liquido strano che si trova dentro l'Animatronics. Ma non lo sapremo con certezza fino a quando non gli staremo lì vicino, così che potremmo valutare la situazione da quel punto di vista. Ok, quindi il circuito stampato sembra essere leggermente danneggiato, però aspetto un attimo. E questo... che cos'è? Gesù Cristo! Che diavolo è successo? Ho anche interrotto il test! Almeno pensavo di averlo fatto. Cosa? Ma l'ho spento! Che diavolo è riuscito a far sì che questa dannata cosa... Aspetta, dove diavolo se n'è andato? Ehi, amico! Cosa ci fai in questo posto o sveglio a quest'ora? Sembra che io ti debba uccidere! Fare immediatamente dalla sicurezza! Ehi, ehi, ma che diavolo ne fai? Abbassa subito le tue mani! Dovresti giocare secondo le regole, amico.